Due amiche stanno chiacchierando tra di loro in un bar, allora una dice all'altra Ah, allora come va la nuova vita nella nuova casa? Come sta tu marito? Come sta? Sta buona, guarda, abbiamo preso casa l'altro ieri e ieri praticamente mi marito è caduto. Oddio, come è caduto? E come è successo? E come è successo? Perché lui è il solito capoccione, praticamente io stavo a preparare un piatto di carbonara era l'ora di cena, lui stava a leggere il giornale e praticamente stavo a soffriggere la pancetta dentro alla padella, allora lui dalla portuna inizia a fare Amor, e io gli ho detto dimmi, ma come sta a fare questa carbonara? Ce lo sta a mettere il guanciale? E io gli ho detto no, no amor, oggi non ho fatto un tempo a andare a piare il guanciale, avevo la pancetta bella e pronta in frigorifero e la carbonara te la sto a fare con la pancetta, sippe una volta, te mangi la carbonara con la pancetta e che vuoi che ti succeda? Aho, c'è stato verso, sarsato da qua la portuna, ha posato il giornale, aho, è voluto uscire per forza, a andare a comprare sto cavolo di guanciale, è uscito dalle scale, è rotolato giù per le scale, ha sbattuto la testa praticamente sullo spigolo della guardiola del portiere e mo, c'è un bernoccolo così, oh mamma mia amica mia, come mi dispiace e beh, e te che hai fatto? E che ho fatto? Io ho fatto con la pancetta